La delibera approvata dal Consiglio Comunale in ottobre con l'inserimento di Villa Mosca tra i siti possibili di realizzazione del nuovo ospedale apre nuove prospettive e segna un punto a favore dei comitati di quartiere che ormai da qualche anno lottano contro la delocalizzazione dello stesso. Eppure il direttore della ASL Maurizio Di Giosia nella conferenza stampa dell'11 settembre dichiarava di escludere l'area del Mazzini in quanto satura. A riguardo il deputato Fabio Berardini torna a chiedere risposte adeguate e non approssimative. Abbiamo appreso che sarebbe stata depositata una proposta per la costruzione del nuovo ospedale nell'area di Villa Mosca, quell'area per cui noi ci siamo sempre battuti, che ha portato anche a una delibera del Consiglio Comunale e quindi la nostra battaglia e quella di tutti i comitati sta iniziando ad avere i propri frutti. A questo punto il direttore Di Giosia invece ci deve spiegare se quell'area è idonea oppure no, in quanto ha sempre sostenuto che quell'area non era idonea e quindi non c'era l'interesse da parte di soggetti a proporre la costruzione presso l'area di Villa Mosca. Adesso invece la proposta è arrivata, quindi vuol dire che quell'area è idonea e quindi ancora una volta noi aspettiamo di vedere le carte, pretendiamo trasparenza, proprio perché questa proposta ci dà completamente ragione. Il sito di Villa Mosca è idoneo e l'ASL lo deve valutare con uno studio completo e serio. È questo quello che noi chiediamo e chiediamo chiaramente che l'ospedale non venga ad abbandonare il sito di Villa Mosca perché è un sito strategico per tutta la città e siamo stanchi di vuoti urbanistici e di essere depredati dell'ennesima struttura strategica per la nostra città.